I comuniti hanno sempre avuto la grande capacità di stare dentro la partita facendo un lavoro difensivo importante, poi alla fine devo dire che anche se basket estate vincere fa sempre piacere, fa la differenza contro una squadra praticamente al completo, contro una squadra che sicuramente sarà tra le protagoniste del campionato e di conseguenza penso che quando vedi queste cose qua d'estate con una squadra con sette giocatori alla fine è un bel segnale, siamo molto soddisfatti di questo. Sappiamo che un giro è molto vicino a livello dei risultati, tutti i risultati sono aperti, specie nel secondo giro che si farà perché le squadre iniziano a essere un attimino più rodate, ci sarà più conoscenza tra i vari giocatori dentro il campo e speriamo di recuperare qualcuno, adesso è una situazione dove chiaramente caricando ogni 48 ore una partita da una parte devi stare attento, dall'altra parte sei in una condizione dove hai una partita come nella tipica micro estiva per fare bella figura, per cui non vogliamo correre i rischi, vogliamo essere in questa fase molto bravi a non rischiare oltre al dovuto, però è evidente che se recuperiamo qualcuno è tanto guadagnato perché comunque tre giorni non sono niente a livello di recupero e giocare in sette diventa complicato. Gianmarco dopo un minuto dall'inizio del terzo quarto ha detto una cosa giustissima ai ragazzi sul primo time out loro, che niente, i ragazzi avevano un cuore incredibile e credo che sia quella la cosa che conti di più in assoluto perché in una partita come questa dove sicuramente c'erano delle defiezioni, sicuramente le energie iniziano ad essere poche perché è la terza partita in sei giorni per tutti, però noi abbiamo una situazione di infortunati che non ci aiuta in questo momento, diciamo che il cuore dei ragazzi è quello che ha fatto la differenza, per cui è quello che ha ribadito ancora in spogliatoio Gianmarco a fine partita e è chiaro che con questo talento, con questa voglia, con questa conoscenza da paracanestro e con questo cuore diventiamo una squadra che rompe le balle a tutti. I ragazzi pazzeschi anche oggi hanno fatto una partita direi eccezionale perché poi se stiamo a vedere non so quante squadre con pochi giocatori, con le energie completamente finite sarebbero riusciti a mettere in campo questa energia fino alla fine, abbiamo giocato punto a punto fino alla fine, poi è chiaro che un tiro ti entra, un tiro ti esce, poi vince poi perde all'ultimo secondo, però l'energia che ha messo i ragazzi oggi in campo è qualcosa di spettacolare. Un valore alto, un valore alto perché sono partite che danno grande morale anche se in un momento da riguardo di difficoltà perché comunque con un po' di gente ferma in emergenza si può fare più fatica, però sicuramente è una partita che dà veramente del gran coraggio, della gran voglia di poter fare ancora meglio la prossima volta e soprattutto di partite che uniscono ancora di più, cioè è emblematica, secondo me è emblematica la scena della panchina sempre costantemente in piedi, sempre voglioso di urlare, di incitare, di aiutare il proprio compagno, oltre chiaramente al lavoro svolto dai giocatori in campo, quindi ripeto è una partita che ha un valore altissimo, un valore altissimo non fine se stesso al suo risultato ma proprio per quello che è la squadra, per quello che è il gruppo, per quello che è il lavoro in prestagione, per quello che è il lavoro che poi ci porteremo dietro per tutto il resto della stagione.